Ultima intensa settimana di campagna elettorale per le regionali 2020 previste il 26 gennaio. Andrea Liverani, capolista della Lega in provincia di Ravenna, ha presentato gli avvenimenti che interessano il territorio, partendo dall'ennesima visita di Matteo Salvini, domani in provincia, prima a Cervia e poi a San Pietro in Vincoli, per continuare lunedì con l'arrivo dell'onorevole Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega, per parlare di agricoltura nel territorio faentino e poi giovedì la grande chiusura per Andrea Liverani con l'ex ministro Gianmarco Centinaio, che sarà in provincia di Ravenna, in particolar modo al mare, a Cervia. Parlerà alle associazioni e chiuderà la campagna di Andrea Liverani al giradischi a Faenza in serata. Il consigliere regionale della Lega ha poi ricordato alcuni punti che riguardano il suo programma, particolare per il turismo, si è chiesto dove è stato in questi cinque anni Andrea Corsini, visto che propone cose che doveva aver già fatto e naturalmente rilancia la possibilità di avere un paglio del niballo ancora più importante, con maggiori risorse e maggiori disponibilità e affiancamento del comune a favore dei rioni.